Musica Cari telespettatori bentornati a Primo Cittadino, questa sera il nostro ospite è il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, bentornato nei nostri studi sindaco. Buonasera, buonasera a voi. Vi ricordo subito i numeri di telefono per intervenire in diretta 0721 86 14 33 oppure un messaggio, meglio se con Whatsapp, al 338 49 68 250. Prima di cominciare però con i progetti e le segnalazioni, vi diciamo che è accaduto un incidente tra lo svincolo di Marotta e quello di Senigallia. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto, ma da come c'è stato detto poco fa dalla polizia autostradale non ci dovrebbero essere feriti gravi. Le pattuglie sono ancora sul posto per i rilievi di legge, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Fano. Dunque sindaco partiamo dalla sua rielezione, lei ha vinto con l'84,45% dei consensi, ecco qua vediamo i risultati ottenuti. La scorsa settimana ha nominato gli assessori, quattro conferme, un volto nuovo. Il candidato in assoluto con più preferenze Carlo Di Ottallievi continuerà a ricoprire il ruolo di vice sindaco. Ricordiamo brevemente anche tutti i componenti della giunta, quindi la sua squadra. Sì, è stato un risultato storico che ci onora ma che ci consegna anche una grande responsabilità che è quella di proseguire nel percorso iniziato negli ultimi cinque anni, cinque anni fa nel 2016 con tanti progetti, tante cose fatte. Continueremo in questa direzione con una giunta che rappresenta in gran parte la continuità con gli assessori Di Ottallievi, Caporaletti, Andrioni e Tiritiello, un nuovo innesto che è Raffaele Tinti che tra i nuovi è stato il più votato e poi tutti gli altri consiglieri comunali che fanno parte della squadra. Anche in futuro daremo spazi un po' a tutti. Abbiamo dato le deleghe a tutti i consiglieri comunali. Sono tutte persone competenti, valide, che hanno specifiche professionalità e quindi ci daranno una mano per migliorare ancora di più la nostra città. Anche lei si è tenuto qualche delega? Sì, io mi sono tenuto la delega al personale e all'urbanistica, che erano le deleghe che ho avuto negli ultimi cinque anni e quindi proseguirò con queste deleghe importanti. Due domande per l'intervista di stasera al sindaco. Vorrei chiedere se è vera la voce che si vuole cambiare il nome al comune, prima domanda, la seconda vorrei chiedere se da qui al prossimo futuro pensa di schierarsi con qualche partito. Da dove cominciamo? Dal cambio del nome del comune. Era un argomento che c'era stato nella campagna elettorale del 2016. A mio avviso il cambio del nome del comune, se ci sarà, deve essere voluto dai cittadini e non dall'amministrazione comunale. Lo statuto comunale prevede delle raccolte firme e quindi chi vorrà potrà presentare queste firme per il cambio del nome del comune. Non credo che rappresenti in questo momento la priorità. La priorità ancora in questi anni è quella di unire ancora di più i due centri, Marotta e Mondolfo. Questo territorio è sempre stato caratterizzato da campanilismi inutili e credo che dobbiamo continuare ancora in questa direzione. Abbiamo una grande opportunità che è quella delle due vacanze in una, della località turistica Marotta e del nostro bellissimo borgo, uno dei borghi più belli d'Italia, Mondolfo. Quindi tutti insieme dobbiamo lavorare per unire ancora di più la città e poi in futuro potrà esserci anche questo cambiamento. Quindi unendo insieme Marotta-Mondolfo? C'era stata una proposta nel 2014, mi sembra, della precedente amministrazione in Mondolfo Marotta e quella volta io personalmente come consigliere comunale avevo votato favorevolmente. Però avevamo visto anche che ancora non erano maturi i tempi di questa scelta e in più si è visto anche che per i marottesi l'importante era fare i progetti per riqualificare la città che è la località turistica. Il turismo rappresenta il settore trainante dell'economia del nostro territorio. Quindi dobbiamo proseguire in questa direzione unendo sempre di più la nostra città, era appunto il senso del nostro fare città nel 2016. E poi pensa di schierarsi con qualche partito? A me piace la politica e quindi chi fa politica prima o poi si schiera con un partito. Personalmente ancora non ho trovato un partito che porti avanti una linea a me consona. Credo che nel panorama ci sono tanti partiti e tante possibilità, però spesso i partiti vogliono al proprio interno e mandano avanti persone che fanno più gli interessi di partito piuttosto che gli interessi dei cittadini. Quindi ancora questo partito non l'ho trovato e vedremo poi in futuro se ci sarà questa possibilità. Parlavamo prima appunto di progetti di Marotta, di Mondolfo. Ecco, c'è stata recentemente, c'è stato un altro ricorso al Tar delle Marche da parte del Comune di Fano. Una situazione che vi è un po' dispiaciuta anche perché si tratta di immobili che potrebbero degradarsi ancora di più. E quindi vi rimane impossibile ancora richiedere fondi, finanziamenti e quindi di conseguenza sviluppare dei progetti. Sì, sono due immobili importanti. Finalmente la Giunta Acquaroli dopo sei anni, la Giunta regionale, ha deciso per questo passaggio di questi due importanti immobili. Per questo ringraziamo la Giunta regionale per questa scelta importante per la nostra comunità. Purtroppo c'è stato questo ricorso da parte del Comune di Fano e questa azione costringerà questi immobili per i prossimi anni a rimanere in uno stato di degrado e fatiscenti. Come Comune di Mondolfo avevamo tanti progetti per giovani e per gli anziani del territorio e ci saranno anche tante opportunità di reperire i finanziamenti. Però purtroppo al momento siamo bloccati da questi ricorsi. Comunque noi ci difenderemo dal punto di vista legale. Incaricheremo quindi un legale, uno studio legale che difenderà gli interessi e i diritti della nostra comunità. Nella sua veste di autorità sanitaria locale si sta parlando tanto di sviluppo della sanità territoriale a seguito della pandemia con i relativi finanziamenti. Quali prospettive per la Casa della Salute Bartolini e il riferimento per i comuni della bassa Valcesano? Sì, adesso intanto nella Casa della Salute l'Asur sta realizzando finalmente l'intervento di ampliamento e di riqualificazione quindi dove verranno realizzati degli studi per ambulatori medici. Poi noi vorremmo riqualificare l'intera ala che è contigua all'ex ospedale Bartolini che è di proprietà del comune di Mondolfo. Lì abbiamo delle idee molto chiare perché abbiamo appunto redato due progetti importanti, uno assieme in collaborazione con l'Avis. Ne abbiamo parlato anche altre volte, quindi un punto donazioni del sangue e poi un centro di urno per Alzheimer. Quindi presenteremo questi progetti alla Regione Marche e all'Asur, li condivideremo anche perché sono progetti che non possiamo portare avanti da soli. Però ci vuole ancora un po' di tempo? Ci vorrà diverso tempo però è importante avere insomma le idee chiare, una progettazione soprattutto nella riqualificazione degli immobili a favore dei servizi sociali. Parliamo di asfalti. Vorrei chiedere al Sindaco quando si faranno i lavori di asfaltatura in via Passo di Rango, acquedotto Centrocroci e poi Centrocroci e via Minganaccio. Sono passi, quindi penso passati quattro anni ancora non si vede niente. L'altro messaggio invece, buonasera vorrei chiedere al Sindaco quando aggiustano la strada che dal santuario della Madonna della Grotta arriva a San Sebastiano. Sì, allora via Minganaccio penso che si riferiva e via la Coppa quella di Madonna delle Grotte. Sono tutte vie attenzionate che necessitano di interventi. Noi in questi anni stiamo mettendo e abbiamo messo diverse risorse per il rifacimento del manto stradale. La volontà dell'amministrazione comunale è quella di proseguire in questa direzione, quindi mettendo ogni anno risorse per rifare appunto il manto stradale dove è necessario. I prossimi interventi nel cronoprogramma sono quelli di via Ancona e via Perugia che facevano parte del progetto prima delle elezioni e quindi dobbiamo completare quelle due vie. Quindi interverremo su via Ancona e su via Perugia. Poi ci sono altre vie che necessitano di interventi, penso a via San Pasquale vicino al cimitero comunale, a via Svevo. Quindi ci sono diverse vie che insomma anche durante la campagna elettorale sono state segnalate dai cittadini. Chiedono informazioni sulla pista ciclabile Marotta-Mondolfo ma anche un'altra. Per andare in bicicletta da Strada Sterpettine a Mondolfo manca una ciclabile. Sarebbe molto comoda anche perché passare le scrivono per la Pergolese oppure sempre per via Serpettine mi sembra un po' pericoloso. Sì è pericoloso al momento perché abbiamo un progetto che è quello della ciclovia del Cesano che è uno di quei progetti che abbiamo iniziato e che vorremmo completare in questi cinque anni che è questo percorso ciclopedonale che collega il mare alla croce del Catria che è finanziato dalla Regione Marche dove il comune di Mondolfo è il comune capofila e vorremmo appunto portare avanti questo intervento nei prossimi mesi. Nel nostro tratto il percorso ciclopedonale passerà lungo la via cesanense quindi collegherà la zona mare e permetterà alle persone che passano lungo la via cesanense di percorrerla in sicurezza e poi entrare su via Molino Vecchio, via Mengaccio fino ad arrivare a Ponterio dove verrà realizzato tra Ponterio del comune di Mondolfo e Ponterio del comune di Trecastelli un nuovo ponte ciclopedonale che quindi unirà le due comunità. Tutto questo è previsto nel primo stralcio finanziato dalla Regione Marche di 800 mila euro. Sempre nel segno della continuità ci sono tanti progetti che devono essere terminati ma tanti anche già annunciati, se ne è parlato per tanto tempo. Partiamo ad esempio dal recupero del Bastione di Sant'Anna. Un'opera anche quella molto importante all'interno del nostro centro storico. Ormai abbiamo quasi completato e ultimato i lavori quindi dovremo completare il recupero del Bastione Sant'Anna però ci sono anche altri interventi che dobbiamo completare ad esempio l'adeguamento sismico della scuola media Fermi quindi partiranno a breve i lavori del corpo B che è l'ultimo corpo rimasto e quindi speriamo di riuscire a terminare e completare quest'opera importante entro la fine del 2022. Poi partirà il percorso ciclopedonale che collega Centocroci a San Gervasio quindi un progetto già finanziato partiremo a breve con la gara e poi quindi l'affidamento dei lavori quindi vogliamo continuare con l'amministrazione comunale come è fatto in questi cinque anni con i percorsi ciclopedonali che vanno nella direzione della sostenibilità ambientale ma anche nel collegamento appunto di tutti i nostri quartieri nel mettere in sicurezza appunto le persone e i cittadini. Invece per quanto riguarda la difesa della costa? Per la difesa della costa noi abbiamo fatto un progetto che era fondamentale per ottenere i finanziamenti adesso abbiamo visto, abbiamo letto dai giornali la volontà della Regione Marche che è quella di mettere diverse risorse per quanto riguarda la difesa della costa tra i progetti, tra i cinque progetti citati dei prossimi anni c'è anche quello del Comune di Mondolfo noi come amministrazione comunale siamo pronti perché il progetto l'abbiamo già redatto Rimaniamo sul lungomare per parlare del piano spiaggia Il piano spiaggia è un iter che abbiamo avviato e che completeremo nel 2022 nei prossimi mesi ritorneremo in Consiglio Comunale con le contradduzioni alle osservazioni che ci hanno fatto diverse attività e cittadini per migliorare l'intero piano e la volontà è quella per metà 2022 di essere andati in Consiglio Comunale per la terza volta per l'approvazione finale un piano molto importante che riqualifica la nostra città da respiro alle attività dal punto di vista delle strutture senza andare a togliere le spiagge libere che rappresentano una caratteristica fondamentale del nostro territorio e soprattutto in questo piano spiaggia uniformeremo la parte di Marotta Nord quindi annessa dal Comune di Fano con tutto il resto del territorio e abbiamo inserito anche la zona sud delle vele per facilitare una riqualificazione da parte dei privati Andiamo avanti con le segnalazioni perché ci stanno arrivando decine di messaggi intanto le chiedono se nella zona di Centocroci, strada per Mondolfo, sono previste le telecamere di videosorveglianza All'interno del nostro programma amministrativo abbiamo messo l'implementazione del sistema di videosorveglianza negli ultimi anni abbiamo posizionato le telecamere alla stazione ferroviaria davanti al casello dell'autostrada e al ponte sul Cesano al confine con il Comune di Senigaglia però vorremmo appunto dotare tutti i quartieri di queste attrezzature servono telecamere nel centro di Mondolfo ma anche nei quartieri come ad esempio Centocroci quindi speriamo nei prossimi anni di proseguire su questa strada Ci sarà in futuro la possibilità di riaprire un cinema? Allora per quanto riguarda il cinema noi abbiamo fatto fare uno studio di fattibilità sul vecchio cinema teatro che abbiamo in centro storico a Mondolfo che è un locale in disuso però abbiamo visto che per riqualificarlo ci vogliono tante risorse in più dal punto di vista della sicurezza e antincendio è un locale che si presta poco alle nuove normative quindi ci sarebbero all'interno pochissimi posti per il cinema quindi la volontà nostra è quella di portare avanti un progetto alternativo sempre intorno alle mura del centro storico in un terreno al momento non edificato ci saranno tante possibilità in futuro i comuni saranno protagonisti con il piano nazionale di ripresa e resilienza e noi anche per quanto riguarda il cinema teatro vogliamo essere pronti quindi nei prossimi mesi metteremo a bilancio diverse risorse per quanto riguarda la progettazione tra i vari progetti che vorremmo portare avanti come amministrazione comunale proprio la realizzazione di un nuovo auditorium, di un nuovo cinema teatro proprio vicino al borgo di Mondolfo che possa rappresentare appunto un punto di riferimento culturale per i prossimi anni per il nostro territorio e non solo Un centro per gli anziani a Marotta è previsto o è sempre collegato comunque a quegli immobili che al momento rimangono bloccati per questo ricorso al TAR Sicuramente quegli immobili erano oggetto di interventi importanti soprattutto dal punto di vista di spazi per l'aggregazione sia dei giovani che degli anziani e purtroppo al momento quelli erano locali che erano a disposizione della comunità da riqualificare senz'altro però ecco difficilmente adesso riusciremo nel breve periodo Via Valle del Pozzo rientra tra quelle che pensate di asfaltare? Prendiamo la segnalazione, la inseriamo all'interno del programma e non voglio far promesse questa sera di asfaltare mezza città Buonasera, vorrei sapere se avete intenzione o no di sbloccare le barriere antirumore della ferrovia visto che per chi abita a ridosso della linea adriatica, nel mio caso Pesaro sarebbe bello poter stare in giardino anche quando arriva un treno soprattutto in frenata che fischia e quindi da rompere le orecchie ci dicono saluti e complimenti Sì, in realtà noi abbiamo bocciato e quindi abbiamo votato contrario al progetto presentato dall'RFI al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti perché era un progetto con barriere troppo impattanti che avrebbero diviso la nostra città e l'avrebbero devastata dal punto di vista paesaggistico e ambientale e quindi al momento è stato bocciato quel progetto abbiamo chiesto a RFI di rivederlo ma non l'abbiamo chiesto soltanto noi perché al Ministero con noi abbiamo portato tutti i comuni della Regione Marche e la Regione Marche stessa anche lei ha dato parere contrario quindi al momento l'Iter è fermo a livello nazionale visto che diverse regioni hanno posto appunto dei dubbi sulla tipologia di barriera che è prevista dal progetto perché sono barriere troppo impattanti ed è un progetto che non è in linea con la normativa europea e gli aggiornamenti che ci sono stati dal punto di vista tecnologico Le segnalano anche la strada che dal Santuario della Madonna delle Grotte porta a San Sebastiano Sì, quella era già stata segnalata prima di Via la Coppa lì c'è un intervento che deve fare Aset quindi non volevamo asfaltare prima di Aset che deve fare un intervento importante su quella strada Un altro argomento che abbiamo trattato anche nel corso del nostro telegiornale anche se riguardava Pesaro Lupi nelle campagne di Mondolfo e al centro di Marotta conta di fare qualcosa? Credo che siano ormai fuori controllo da parte di chi se ne dovrebbe occupare come riusciamo a salvaguardare i nostri animali d'affezione i quali hanno tutti i diritti di essere tutelati tra l'altro anche nei giorni scorsi proprio da Marotta ci sono arrivate diverse foto, video di questi lupi Sì, in realtà è un problema a livello regionale quindi difficilmente il comune di Mondolfo può far qualcosa per migliorare la situazione quindi il problema è stato segnalato diversi comuni l'hanno segnalato e vedremo se si riuscirà a far qualcosa per migliorare questa condizione Altri messaggi sui lupi, sulle sagre, sulle feste comunali ne parleremo più tardi e vogliono avere informazioni invece sul nuovo cimitero ci sono novità? Sì, lì è un altro progetto che dobbiamo completare quello dell'ampliamento del cimitero comunale ora abbiamo terminato la gara dell'ultimo stralcio quindi quella con la quale realizzeremo i 400 loculi e quindi c'è la ditta ed è pronta per partire quindi il cantiere è in continuità con gli stralci precedenti Due domande in una è possibile adibire uno studio pediatrico a Mondolfo? Poi ancora sarebbe una bella cosa fare anche una rotatoria dopo Ponte Cesano quindi lo studio pediatrico Non so se in questo caso il comune può fare qualcosa in tal senso Sì, adesso mi vede direttamente interessato in quanto mio padre fa il pediatra e per ragioni di covid hanno dovuto non potevano divider l'ambulatorio con il medico di medicina generale che era di Mondolfo e quindi adesso c'è il medico di medicina generale lì a Mondolfo per quanto riguarda quindi penso che in futuro si possa ripristinare la condizione di qualche anno fa prima del covid e per quanto riguarda la rotatoria sul Cesano la proprietà della strada è in parte dell'ANAS e penso all'incrocio con via cesanense che è una strada invece provinciale e quindi dovranno accordarsi ANAS e provincia dovremo fare un tavolo quindi ci saranno dei tempi un po' lunghi non dipende soltanto dal comune di Mondolfo Torniamo un attimo a parlare di sanità perché dopo tanti anni di attesa anche Piano Marina ha la sua farmacia abbiamo una foto del giorno dell'inaugurazione dunque un servizio importante che si è attivato diciamo dopo anni di attesa sì era un servizio che richiedevano da circa 25-30 anni i cittadini del quartiere di Piano Marina e c'è stata nei primi di ottobre l'inaugurazione di questa farmacia di quella che è a tutti gli effetti una farmacia e un servizio importante per tutta la comunità Piano Marina è un quartiere in crescita lì sono stati diversi interventi negli ultimi anni la nuova chiesa che anche quella si attendeva da tanto tempo la farmacia noi come amministrazione abbiamo realizzato questo percorso ciclopedonale che collega il quartiere con Marotta Centro ed è un quartiere molto vivibile che sta appunto crescendo e cercheremo in questi anni di far di tutto per migliorarlo ancora Un bel messaggio per lei sono un cittadino di Mondavio e sono qui per complimentarmi con Nicola per tutte le opere e le varie attività che ha fatto e che sta portando avanti Davvero in gamba Marotta e Mondolfo sono rinatte con lei non mi dispiacerebbe un sindaco come lei per Mondavio complimenti e buon lavoro Grazie Buonasera sindaco avverrà lo stesso la realizzazione del parco giochi e l'uscita dell'autostrada? Quella è stata una proposta fatta in campagna elettorale dalla lista di opposizione sicuramente ci dovremo confrontare su quell'area perché è un'area molto appetibile davanti al casello dell'autostrada però è un'area privata e al momento il piano regolatore dice che quella è un'area adibita all'outlet che era quel progetto portato avanti dalla precedente amministrazione che poi era saltato perché poi gli outlet è cambiato il mondo dal punto di vista economico e quindi commerciale non erano più interessati i privati a realizzare questo progetto quindi dovremo rivalutare assieme in consiglio comunale quelle che sono le ipotesi senza fare come è stato fatto in passato dove sono state fatte promesse ai cittadini e quindi la proposta che ha fatto l'opposizione così è una proposta che non ha fondamenta al momento poi tra l'altro è stata fatta da quella stessa lista di opposizione che aveva sostenuto per molti anni l'outlet quindi credo che ecco non bisogna illudere i cittadini sui progetti ma bisogna essere anche chiari quindi quella è un'area privata sicuramente la previsione urbanistica la decide il comune di Mondolfo se ci saranno dei progetti interessanti su quell'area a favore dei cittadini ben venga però al momento non ci sono ipotesi di questo tipo Dobbiamo ancora parlare di illuminazione pubblica di raccolta differenziata le chiedono anche di nuovi parcheggi per il centro storico insomma tanti messaggi ancora per lei ci fermiamo soltanto per qualche istante di pubblicità Bene siamo tornati in diretta con il sindaco di Mondolfo dunque Nicola nuovi parcheggi e servizio del centro storico da tempo attesi quando? Allora per quanto riguarda il centro storico la nostra idea è quella che piazza del comune deve diventare una piazza pedonale quindi vorremmo rifare la pavimentazione naturalmente serve un progetto che dobbiamo redigere come amministrazione comunale quindi riqualificare la piazza del comune che è una piazza bellissima che necessita però di riqualificazione e noi vogliamo renderla pedonale dall'altro lato però dobbiamo creare dei parcheggi intorno alle mura ci sono delle aree che abbiamo individuato sia con delle ultime varianti che abbiamo approvato in consiglio comunale abbiamo delle trattative con dei privati appunto per l'esproprio di alcuni terreni che sono terreni agricoli intorno al centro storico in particolare in via Vandali dove vorremmo realizzare dei parcheggi a servizio appunto del centro storico quindi l'idea è quella di unire il miglioramento appunto dei posti auto all'interno del centro storico e dall'altra parte rendere però anche più bella e accogliente la nostra piazza del comune che è sempre tanto visitata e fotografata dai turisti che vengono ogni anno a trovarci Passiamo all'illuminazione pubblica in questo senso che cosa state progettando? Allora per quanto riguarda l'illuminazione pubblica ci sono dei lavori che partiranno nelle prossime settimane il progetto riguarda Viale Carducci e Piazza Roma al momento è interessato il primo tratto di Viale Carducci da Via Parini a Piazza Roma e la riqualificazione appunto dell'illuminazione pubblica di Piazza Roma dove abbiamo realizzato ha realizzato RFI con le opere compensative proprio il nuovo sottopasso ciclopedonale e quindi nelle prossime settimane ci sarà l'ammodernamento di tutta l'illuminazione di Viale Carducci che era un impianto di pubblica illuminazione ormai obsoleto e quindi verranno eliminate le sfere verranno realizzati dei pali più funzionali con luce a LED quindi di ultima generazione ed uno dei quei tanti interventi che abbiamo fatto in questi anni sull'illuminazione pubblica e proseguiremo anche nei prossimi anni da troppo tempo le amministrazioni passate non hanno per troppi anni messo mano alla pubblica illuminazione del territorio comunale e noi ogni anno stiamo facendo interventi che vanno nella direzione della sicurezza ma anche una riduzione del rischio dell'inquinamento luminoso e maggior risparmio energetico hanno telefonato per avere informazioni su strada di mezzo perché ci sono le auto che viaggiano ad alta velocità è vostra competenza potete fare qualcosa? Sì è che strada di mezzo viene utilizzata come praticamente una complanare alternativa alla statale anche se è una strada molto molto stretta ed è molto trafficata è una strada purtroppo che ha non solo la proprietà del comune di Mondolfo ma anche la proprietà del comune di San Costanzo e di Fano e proprio assieme ai tre comuni stiamo portando avanti con la provincia di Pesaro Urbino il progetto della complanare che il prolungamento della complanare da Marotta fino a Tombaccia quindi questa strada alternativa alla statale che permetterà anche di togliere il traffico dalla strada di mezzo che al momento è molto utilizzata non solo dai residenti ma anche da coloro che da Fano Sud raggiungono Marotta o che superano Marotta e vanno verso Senigallia Sul tanto amato gioco del pallone col bracciale ci sono novità? Con gli amici del pallone col bracciale con l'associazione siamo in costante contatto abbiamo inserito all'interno della nostra nuova guida turistica che abbiamo presentato qualche mese fa proprio anche un'esperienza legata al pallone con il bracciale abbiamo dato un contributo all'associazione per redigere uno studio di fattibilità di un nuovo campo da gioco sempre lì nel nostro centro storico poi dovremo valutarlo assieme vedremo se tecnicamente è fattibile quindi assieme all'associazione Via Illica l'aveva citata prima il sindaco per il manto stradale con ciclo pedonale e pedonale no Via Illica non l'ho citata quella è una via ereditata dal comune di Fano purtroppo l'abbiamo ereditata senza opere di urbanizzazione quindi adesso abbiamo realizzato non adesso ma qualche anno fa l'illuminazione pubblica che già è un intervento molto importante poi in futuro si servirà marcia a piedi e percorso appunto ciclabile potete fare qualcosa per i ragazzi che prendono l'autobus in Via Veneto rimane dietro ad un curvone non c'è spazio per sostare con i nostri figli e per attraversare e fare anche una rotatoria Allora una strada provinciale sul trasporto pubblico locale ci sono stati diversi finanziamenti da parte della regione Marche per il miglioramento delle fermate autobus noi come comune di Mondolfo siamo stati finanziati per dieci progetti e quindi dove possiamo andiamo ad intervenire e purtroppo queste queste fermate un po' in tutta la regione sono fermate in alcuni punti davvero molto pericolose ce ne sono tante nel nostro territorio che devono essere riqualificate adesso ne andremo a riqualificare dieci quindi inserendo nuove pensiline creando un po' più di spazio per gli studenti al momento non è compresa quella di via Vittorio Veneto due anni fa abbiamo fatto un intervento importante ad esempio su via Andersen quindi lungo la statale anche lì sempre con finanziamento regionale ed è stato un intervento molto molto apprezzato certo se si riesce a insomma migliorare la sicurezza nelle fermate autobus benvenga valuteremo la situazione caso per caso avete in progetto un'area camper a Mondolfo? all'area camper una esiste già sul lungomare e un'altra è stata prevista da piano regolatore perché c'era una società che era interessata a realizzarla a monte dell'autostrada e poi sono interventi soprattutto privati che sono appunto interessati per fornire questo servizio abbiamo visto che negli ultimi anni nel nostro territorio sono aumentati il numero di camperisti che sono venuti appunto a visitare la nostra città e questo ci fa piacere anche se bisogna creare appunto delle aree di sosta attrezzate e adeguate Piano Marina ci servirebbe la fibra? la fibra ottica l'intervento ogni volta che vengo qui facciamo un aggiornamento sulla fibra ottica che è diventato un progetto che sta andando avanti per troppo tempo ormai lo ripetiamo ai cittadini ogni volta che veniamo perché purtroppo è un progetto del Ministero dello Sviluppo Economico e noi cerchiamo di sollecitare Open Fiber nella conclusione in tempi rapidi dei lavori hanno creato tanti problemi nelle nostre strade adesso stanno finalmente facendo dopo tanti mesi di richieste i ripristini definitivi per migliorare la sicurezza della città avevano dato come tempistiche l'estate del 2022 non l'hanno rispettata neanche questa questa volta ormai non gli rimane neanche tanti lavori da realizzare sul territorio comunale e nel progetto previsto di Open Fiber questa è la cosa positiva è che anche Piano Marina verrà coperta con un servizio Fiber to the Home quindi sarà un servizio molto efficiente una connettività quindi migliore Via Valcesano ci dicono non ci sono spazi di fuga per pedoni e ciclisti sempre su Via Valcesano dell'autostrada a Moretti Forni sarebbe molto utile la ciclabile e poi richiedono informazioni anche sul ponte ciclabile sul fiume Cesano per la ciclovia adriatica Sì Via Valcesano è una strada di proprietà dell'ANAS e invece per quanto riguarda il ponte ciclopedonale sul Cesano sta andando avanti il progetto un progetto portato avanti assieme alla Regione Marche e al comune di Senigallia la Regione Marche sta redigendo il progetto esecutivo del ponte ciclopedonale e quindi speriamo che verrà appunto redato in tempi brevi che si faccia la gara il prima possibile per poi partire con i lavori anche perché è un'infrastruttura fondamentale per rilanciare dal punto di vista turistico le due città è un'infrastruttura a cui crediamo molto e quindi speriamo di inaugurarla noi come amministrazione comunale Tra poco parleremo della raccolta differenziata perché sono informazioni importanti e utili per la cittadinanza prima intanto via Italo-Svevo l'unica via di Marotta senza metano a quando la metanizzazione cosa dice il sindaco Barbieri? Bisogna parlare con chi gestisce il servizio purtroppo abbiamo trovato un territorio che da questo punto di vista era molto carente su tante vie su tante strade del territorio ancora ci sono strade in cui non è stata neanche realizzata tra la rete dell'acquedotto e quindi stiamo parlando anche con con l'ASET con le società che gestiscono appunto questi servizi per cercare di andare a migliorare di anno in anno e di fare quindi gli interventi a favore dei cittadini continueremo anche nei prossimi anni in via Svevo servirebbe anche l'asfaltatura l'illuminazione pubblica che una parte ne è sprovvista quindi ci sono tante cose ancora da da migliorare nella nostra città cercheremo di fare il massimo e quindi intanto prendiamo la segnalazione ecco nei giorni scorsi avete annunciato questo avvio da gennaio 2022 del nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta ci sono anche degli incontri utili appunto per i cittadini per capirne un po' di più intanto avete iniziato a mandare le lettere a casa sindaco per sì le abbiamo inviate arriveranno nei prossimi giorni la lettera che spiega l'avvio insomma del nuovo servizio il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta che prevede appunto un porta a porta spinto non solo di carta umido e indifferenziato come era fino adesso sulla gran parte di territorio a parte quella parte annessa dal comune di Fano ma verrà aggiunto anche il porta a porta del vetro e metalli plastica e sfalci e potature quindi un servizio a cui crediamo molto un nuovo servizio che partirà dal primo gennaio dal 15 novembre il gestore del servizio inizierà a distribuire le attrezzature casa per casa quindi porta a porta verranno distribuite tutte le attrezzature ci saranno nuovi bidoncini e verranno ritirati nel momento della consegna quelli appunto vecchi che i cittadini avevano a casa quindi verranno rimossi contenitori stradali lungo le strade verranno realizzate nel progetto sono previste delle eco isole informatizzate a cui si potrà accedere con delle tessere per le utenze non domestiche e per le attività quindi incontreremo i cittadini dall'8 novembre al 12 novembre ci saranno diversi interventi nei vari quartieri e abbiamo anche riguardiamo anche la lista così la rifacciamo vedere bene a casa si possono segnare il giorno ecco Marotta Nord Centocruci Piano Marina Marotta Mondolfo sì abbiamo cercato di coprire un po' tutto il territorio poi se servirà faremo anche altri incontri ci sarà una campagna anche social di informazione perché abbiamo visto che con i mezzi di comunicazione ad esempio Facebook e Instagram comunque tanti cittadini sia i giovani che i meno giovani li seguono e quindi c'è una pagina ufficiale che è raccolta differenziata a Mondolfo che i cittadini potranno appunto seguire far richieste si cercherà lì di tenere aggiornato il più possibile la la popolazione andiamo avanti un attimo con le nostre foto perché dovremmo avere qualcosa che riguarda anche ecco il chiostro di Sant'Agostino sì lì sono iniziati i lavori del chiostro di Sant'Agostino del restauro di una facciata del chiostro lavori che anche qui si attendevano da decenni abbiamo fatto una convenzione un protocollo assieme alla prefettura in particolare al ministero dell'interno e alla soprintendenza quindi sono dei lavori che dovrebbero un cantiere che dovrebbe durare all'incirca sei mesi e quindi una bella riqualificazione in una zona strategica del nostro centro storico dove spesso vengono organizzati eventi e iniziative che i turisti visitano è uno dei luoghi più visitato da chi viene appunto nella nostra città c'è il museo civico e quindi la volontà è proprio quella di di proseguire nel recuperare tutti questi spazi e riconsegnarli in sicurezza alla comunità non possiamo non parlare anche di Mazzanti che tra l'altro ha inaugurato la nuova pista polivalente eccolo qua vediamo in foto sì abbiamo avuto l'occasione ci giocava da bambino un po' il sindaco giusto sì è cresciuto lì alla parrocchia di San Giovanni è stata una bella occasione per ricordare la vittoria al campionato europeo siamo orgogliosi di Davide non soltanto per le sue vittorie ma della persona che è dei valori che porta avanti che trasmette nel mondo della pallavolo nel mondo dello sport a livello nazionale non solo e poi quest'anno c'è stata anche una bella soddisfazione per un altro nostro concittadino Matteo Bertini che è nel suo nel suo staff questa è la foto con la 500 blu sul lungomare di Marotta dopo la vittoria che ci porta tante emozioni vissute e vederli passare lungo nel nostro lungomare tutti e due assieme con tante persone che gli applaudivano e facciano i complimenti è stata davvero un'emozione grande per tutta la nostra città I colombi urbani infestano un centro storico con problemi di igiene e di escrementi lungo le vie che cosa si può fare? Adesso abbiamo con l'ufficio ambiente faremo un intervento con un servizio apposito per ridurre questo problema che hanno comuni come il nostro ma penso anche a San Costanza tanti altri comuni dove purtroppo c'è la presenza di questi colombi e cercheremo appunto di portare avanti questi servizi e questi interventi per ridurre la criticità cosa ne pensa di ricostruire la vecchia rocca? è un progetto sognare bisogna sempre sognare però rimanere anche con i piedi per terra quindi credo che sia un progetto molto difficile da portare avanti invece cosa ne pensa sul mare d'inverno le chiedono prosegue questo progetto in qualche modo? sì il mare d'inverno prosegue noi abbiamo dato il conferimento alla nostra città di città del mare d'inverno abbiamo portato avanti diverse iniziative diversi progetti con Enrico Ruggeri anche con le scuole del territorio anche con i mosaici quindi ci sono state diverse occasioni per richiamare appunto il mare d'inverno di Marotta e cercheremo di fare del nostro meglio con appunto iniziative ed eventi anche in futuro legati proprio a questo tema quando inizieranno invece i lavori all'ex Hotel Holiday su Lungomare? Hotel Holiday non ho aggiornamenti anche lì dovevano iniziare quest'anno però non sono iniziati l'intervento è è un intervento privato avremo l'incontro con la proprietà nei prossimi mesi e speriamo di dare delle notizie positive alla cittadinanza anche perché è un punto centrale del nostro territorio sul nostro lungomare e tra l'altro una struttura che si prevede la realizzazione di una struttura con dei negozi nel piano terra nel piano primo una struttura alberghiera e poi appartamenti residenziali quindi un progetto che riqualifica l'intera area e soprattutto l'isola pedonale di Viale Carducci siamo quasi in chiusura quindi vorrei parlare con lei di eventi ma andiamo prima da una foto per parlare della galleria senza soffitto si è un progetto importante portato avanti dal direttore artistico Filippo Sorcinelli e dall'associazione Pro Arte Mondolfo un progetto che abbiamo sposato lungo le vie del nostro centro storico stanno aumentando queste opere d'arte nel nostro centro storico e con loro anche i tanti visitatori perché hanno portato tanta curiosità da persone anche che vengono fuori regione per vedere queste opere d'arte e verranno installate altre tre opere d'arte tre fotografie di Mario Giacomelli lungo il nostro centro storico nei prossimi mesi quindi le inaugureremo insieme a Pro Arte Mondolfo e ai cittadini che vorranno venire a visitare il nostro borgo andiamo invece sugli eventi so che anche il nostro regista è appassionato di un'iniziativa in particolare Ricky Sì Sindaco le volevo chiedere visto il successo delle scorse edizioni si ripeterà Sinestesia Festival? Sì Sinestesia Festival si ripeterà tornerà nella prossima estate anche se l'abbiamo da diversi anni che viene organizzata sempre dall'associazione Pro Arte Mondolfo e da Filippo Sorcinelli è un festival a cui crediamo tanto speriamo il prossimo anno di averla a pieno visto che negli ultimi anni a causa Covid è stato un festival un po' più ristretto a causa delle normative e delle difficoltà di organizzazione però è un festival che si farà porteremo avanti tante iniziative prima del Covid ne organizzavamo tante assieme alle associazioni del territorio e continueremo a farlo anche in futuro sia d'estate che durante l'inverno insomma Sindaco dobbiamo chiudere qua la trasmissione però grazie per essere stato con noi poi avremo modo anche nei prossimi mesi di riparlare logicamente di tutti i progetti in corso o comunque futuri grazie grazie a voi per questa opportunità grazie un ringraziamento anche ai nostri telespettatori regia Riccardo Sora e Cristiana Guerra noi ci rivediamo fra due lunedì perché il prossimo è festa ma l'informazione logicamente torna domani arrivederci grazie a tutti grazie a tutti